Buonasera a tutti, buonasera. Grazie a Tore, grazie. Buonasera a tutti e anche grazie per la pazienza di aver appeso diligentemente, educatamente questo momento, nonostante i disturbi di autobus che passarono poco fa. Sembrava come che l'amorese avesse vinto lo scudetto, perché le persone tornavano, c'erano due dentro che li vedevano dentro l'autobus che si domandavano, curioso. Io vi ringrazio, io credo che se basta accettere alla televisione ormai i politici sono tutti bravi con le parole e qualcuno può dire beh però quel Salvini dice delle cose interessanti, però Renzi dice delle buone parole, io dico che l'unica cosa che ci può far cambiare l'era e non farci prendere il giro sono le immagini e la credibilità, le immagini. Io prima con Nicola Bianchi, dovete essere orgogliosi di avere parlamentari come Nicola, come Emanuela Corda, come Cotti, davvero dovete essere ammettieri, sono sceso da questa viettina e sono entrato in questa piazza. Fateci caso, non c'è un poliziotto, non c'è un carabinino. Fateci caso. Le forze dell'ordine sanno che se un gruppo di cittadini il Movimento 5 Stelle scende in piazza possono andare a cercare i labri altrove. Questo lo capiscono le forze dell'ordine. Poi ringrazio anche le persone abbracciate alla finestra, dovunque. Vedete conoscete, lo so che avete un posto che potete buttarvi sull'auto. Grazie anche a quella creatura lì sul terrazzo che stava dicendo che cosa fanno queste persone. Dite a vostra figlia che fondamentalmente stiamo lavorando per lei. Questo stiamo facendo. Oggi sono anterrato da Vigero e come è messo una volta si vede dall'alto a quest'isola meravigliosa. Il mare che sembra il tropico. Ah, lei! Ah, voi, lei, prego. Sì, non esageriamo. Evitiamo di avvicinare le creature. Perché poi esiste un po' di rispito di toccalo, toccalo. Io posso assolvere solo coloro che hanno votato Berlusconi e Renzi. Non voi li assolvo. Perché è capitato a tutti poi. Vi dicevo, la credibilità. Se siamo così tanti in piazza, poi magari qualcuno può essere scettico sul movimento dell'Egittimo, anzi vi invito sempre a curare il dubbio, perché il dubbio è rivoluzionario. Però se siamo veramente a centinaia di uono stasera e senza dette grido, è perché il Movimento 5 Stelle ha rispettato i patti. Il microfono si sente? C'è un problema? No, no, no. Sperdiente celular. Vi dicevo vicino al microfono, è perché abbiamo rispettato tutti i patti. Io qua non vengo a chiedere voi, io sono di Roma, sono già stato eletto. Anche io sono stato espulso dalla Carta dei Deputati. Non è una scelta della Presidente Bontrini, è una scelta decisa scientificamente dalla maggioranza che non vuole l'opposizione interna. Perché dopo vent'anni di inciusci, soltanto alla presenza di un'opposizione, le disturba. Ma queste sono delle taglie al valore e sono anche dei segni di direttorezza di un sistema. Nessuno riesce a riempire le piazze con le parole senza promettere niente a nessuno. Noi non vi promettiamo niente a nessuno in questo comune. Soltanto il rispetto del programma elettorale. Soltanto il rispetto del programma elettorale. E guardate che è una cosa incredibile. Se siamo così tanti in piazza è perché il Movimento ha rispettato tutti i patti. Non è facile tagliarci 130.000 euro in due anni di stipendi, se come meglio non ho una casa di proprietà, me la sarei potuta comprare. È perché crediamo che anche la sovranità sia un valore. Perché è intollerabile che una persona parla delle esigenze della povera gente, degli ultimi, di pensionati minimi, e non è stato capace mai di tagliarsi un euro di stipendio. Io sono stato da Floris nel tebuno di martedì, però a noi ci mandano sempre molto tardi, a di mercoledì. Fatti c'è casa. Ci mandano dopo mezz'anno. E Floris, quando gli dicevo, noi abbiamo detto in campagna elettorale che ci sarebbero tagliati gli stipendi, l'abbiamo fatto. E lui neanche mi guardava in faccia. E mi diceva, sì, vabbè, questi sono i vostri gesti simbolici. Gesti simbolici. I simboli forse servono. Sì, gli esempi. E quello che davvero stavo facendo, non è facile stare lì dentro. Guardate che sovviamo anche tante minacce, tante intimidazioni, anche dei tentativi di compra-vendita, non con una valigetta, però provano a farti, come dire, a farti entrare in un sistema. Gli abbiamo fatto paura, il fatto che siamo entrati e non ci siamo venduti, che mandiamo via le mene marce, quelle mene marce che iniziano a tenere soldi non le mandiamo via. Io vi chiedo di avere, non coraggio, perché onestamente dopo 20 anni di centro-verso e centro-sinistra ci vuole coraggio a votare gli altri, vi chiedo di metterci alla prova. Mettete alla prova queste persone che parla di inesperienza. Guardate Luigi Di Maio come presiede l'Aula dei Deputati, la Camera dei Deputati ha 38 anni. Non era mai entrato Luigi Di Maio, ci hanno fatto credere, io vi do questa esperienza personale, ci hanno fatto credere che soltanto un'elite di persone potesse fare da parlamentare della Repubblica. Non è vero. Anche dal punto di vista culturale, credetemi, in quel palazzo sono poca cosa. I bocconiani, lo diceva prima Nicola, quelli che si sono laureati alla Bocconi con il massimo di voti, sono quelli che hanno fatto approvare leggi come la legge Fornero incostituzionali. Loro sono i bocconiani. Oltretutto io dico a tutti che il Movimento 5 Stelle e il Parlamento la percentuale più alta di laureati, l'88% di noi è laureato, siamo fiori accademici, abbiamo fiori titoli. Sti scivoli cittadini in maniera libera mandano dentro delle persone migliori, detenzialmente, anche se, io lo ripeterò sempre, credetemi, il peggiore di noi stasera, se onesto, è il migliore del migliore di loro. Credetemi, credetemi. Perché non ci vuole Einstein per capire che se in Sardegna piove e ci scappa il morto, tu prima di comprare dei cacciabombardieri devi fare in modo che non ci scappi il morto in Sardegna ogni volta che piove. Non ci vuole Einstein. E Manuela Corta, Nicola, la Camera, hanno combattuto per gli inventamenti, per tirare fuori dei soldi. Io non dimenticherò mai 48 milioni che eravamo immediati da stanziare contro il distesso idrogeologico qui in Sardegna e ci hanno risposto che i soldi non c'erano. Coloro che non si sono mai tagliati un euro di stipendio, coloro che rubano, coloro che accettano tangenti come se fossero dei regali semplici fatti a Natale, coloro che sono negli scandali di Mafia Capitale, di Emilia, di Rimborsopoli, la Barraccio sembra che con il quantitativo di benzina che si è fatta rimborsare sarebbe arrivata sulla Luna. Li ho fatti io. Li ho fatti io, gli ho detto. Ah, aveva un astronauta in regione e non si è fatta in una seconda. Ma perché? Fatemi le domande facili. Ma perché sempre al Movimento 5 Stelle in piazza non c'è un poliziotto o questo sembra un paese normale? Guardiamoci e riflettiamo sul fatto che sembriamo un paese normale. Ma perché il Movimento 5 Stelle non imbratta le città con manifesti abusibili? Ma perché il Movimento 5 Stelle se lascia una piazza che utilizza la lascia più pulita di come l'ha trovata? Non sono queste delle prove che ci sta a cuore il bene pubblico che non sportiamo le città che non sperperiamo soldi perché i soldi non ce li abbiamo perché se tu prendi soldi da un sistema poi sei ricattabile. Questa è la cosa importante che va a capire. Se un imprenditore ti dà quattrini per la tua campagna elettorale e poi tu vieni eletto tu dovrai dare qualcosa in cambio a quell'imprenditore. Per quello noi facciamo i camerieri per finanziare le nostre campagne elettorali. I camerieri ho fatto il cameriere ovunque. Ho lasciato anche il curico un video perché non si sa mai. E ho fatto anche i 40 euro di mancia la prima sera a Napoli. Perché evidentemente ci hanno preso in giro per questa cosa ma fateci caso se riusciamo a finanziare una campagna elettorale con queste attività di autofinanziamento quando entreremo a Nuoro, a Bruxelles o a Roma saremo liberi perché nessuno ci dirà io ti ho finanziato quindi mi devi dare qualcosa in cambio. Questo è il meccanismo che va capito. Falcone diceva che se seguiamo i soldi capiamo la mafia. ecco tu i soldi non li prendiamo. Metteteci alla prova mettete alla prova queste persone questi consiglieri comunali che candidati che per la prima volta hanno parlato di fronte alla piazza segre vita forse anche un po' di esperti di tupanti emozionati come chiunque di voi sarebbe emozionato qui sopra o sarebbe emozionato all'interno del Parlamento e ci finirete in Parlamento. Sembrerà questa qualcosa di assurdo di astruso questo che vi dico lo dico soprattutto ai più giovani mettetevi in testa che oggi ci stiamo noi ma la prossima legislatura qualcuno qui di Nuoro sta nel Parlamento qualcuno che non ha ganci non ha ganci nel sedere che viene da qualche politico pezzo grosso non ha la mafia la massoneria alle spalle non ha gruppi di potere qualcuno di voi oggi dirà ma è impossibile sì voi finirete in Parlamento qui stasera c'è il ministro della Repubblica del futuro magari il premio del futuro il vicepresidente del Senato del futuro se lo fanno Gasparri perché non lo portano a lui di lui non capite che ci hanno messo in testa delle bugie a dire di votare quello perché è conosciuto ma le procure spesso a conosciuto ma perché si difettici da tutti il Movimento 5 Stelle aprendo i giornali ascoltando le tv perché si arrestano sempre gli altri perché e poi una cosa non si può votare un partito come se fosse una squadra di calcio o un'attività familistica e come diceva prima il candidato sindaco no forse il candidato consigliere ovvero ho un parente e lo devo votare no il voto è la cosa più preziosa del mondo alcune persone sono morte per dare la possibilità a votare tutti noi non possiamo darlo solo perché è un parente se mia madre si candidasse nel piedino non lo voterei mai mai lo succederà non può con la palona a mio figlio con la ritorna e un partito politico un movimento politico non può essere come una squadra di calcio io vedo in tutta Italia perché alcune persone dicono io sono nato sempre votato il PD quindi voto il PD non può essere così uno deve valutare quello che uno fa se rispetta il programma se ha coerenza se non ci ha arrestati dentro se combatte è un partito per l'interesse generale se fa così lo rivoto non è che il PD era Juventus io nasco della Juve il Milan l'Inter quindi sarò sempre della Juve del Milan non può essere così e non può essere ripeto un partito qualcosa di familistico guardate che noi non è che nasciamo più onesti degli altri perché pure noi magari potremmo essere un domani beccati con le mani della marmellata vi assicuro che non sto mettendo le mani in avanti il concetto è che il Movimento 5 Stelle con questo sistema riduce la possibilità di contaminazione dei propri eletti all'interno delle istituzioni perché uno perché candida solo in censurati se tu candidi già un condannato come fa il Partito Democratico un pochino dovunque è evidente che quel condannato abbia maggiori possibilità di rubare di nuovo ma la seconda cosa incredibile voglio che la capiamo sono le due registrature e poi a casa nel momento in cui io Emanuela Nicola stiamo alla Camera dei Deputati e sappiamo che faremo ritorno nel paese reale che non è Montecitorio ma è questa piazza sono i problemi della Sardegna è il distesto geologico sono i giovani sardi costretti ad emigrare anche se qui c'è tutto qui c'è tutto c'è il non il petrolio avete qualsiasi forma di ripensa se noi sappiamo che il paese reale è questo e non possiamo per statuto stare tutta la vita in Parlamento cose che invece notoriamente fanno tutti i politici voi ora riderete perché io lo dico sempre ma Napolitano l'ex presidente è entrato in Parlamento che Stalin era ancora vivo ridete ma è vero pensate nel momento in cui noi sappiamo che saremo costretti a far ritorno nella società reale combattiamo per migliorare quella società reale perché sarà nel nostro interesse migliorarla proprio perché vi faremo ritorno è chiaro questo circolo virtuoso io vi chiedo soprattutto tutta la persona un po' forse più anziana metteteci alla prova avete votato feccia durante tutti questi anni non è cambiato nulla avete ascoltato meravigliose parole poi arriva un movimento che fa quello che dice sempre l'abbiamo sempre fatto diteci una promessa che non abbiamo mantenuto ditecene una fateci una critica su un voto che non abbiamo fatto giusto veniamo criticati solo sul perché non abbiamo dato la fiducia a Versani cosa che non ci è mai stata chiesta questa è una palla che continua a girare e mi tocca smentirla Versani non voleva mai fare un governo con noi voleva fare un governo da solo con il PD però voleva i voti del Movimento 5 Stelle quella forza politica che aveva vinto le elezioni e non era diventata maggioranza per un premio di maggioranza incostituzionale che è quello della legge elettorale ma come noi andiamo in tutte le piazze in Italia dicendo che facciamo sia accordi ma sulle idee abbiamo votato insieme al Partito Democratico la legge sugli ecoreati assolutamente se le cose sono buone noi le votiamo alle volte abbiamo votato anche con la legge per esempio contro lo svuoto a carcere perché noi se tu vai in carcere devi scontare la pena non è che per cose astruse tu devi uscire fuori se c'è buona vocale oppure che le carceri sono strapiene di detenuti continuiamo altre carceri oppure devono andare via i detenuti a bassa pericolosità sociale guardate che le carceri in Italia sono strapiene di detenuti a bassa pericolosità sociale sono vuote di detenuti ad alta pericolosità sociale qual è la differenza tra un Alfano e un Huligan qual è la differenza? gli Huligan hanno le sciarpette dei tifosi per carità distruggono tutto quello che toccano ma perché Alfano non è la stessa cosa? questi politici non hanno distrutto tutto quello che hanno toccato solo l'hanno fatto con albi difirmati con cravate griffate educatamente democrasticamente come si dice in maniera democristiana tranquilli puliti sorridenti perché sono bravi a prenderci in giro con il sorriso con le belle parole in questo la sinistra che è la cosa peggiore che abbia mai visto e ve lo dice uno che ha votato a sinistra in vita sua è maestra maestra nell'ipocresia la buona scuola la chiamano sapete che cos'è la buona scuola? ci saranno tanti insegnanti qui la buona scuola significa dare soldi pubblici a scuole private mentre le scuole pubbliche crognano a pezzi questa è la buona scuola ma si può votare in questa gente ma in nome di quale mandato Renzi da soldi nostri alle scuole private oltretutto violando l'articolo 33 della Costituzione che dice che istituti privati possono mettersi delle scuole senza oneri aggiuntivi da parte dello Stato ma i nostri figli non hanno la carta igienica non hanno gessitti non hanno i cancellini rischiano la vita in alcune scuole perché si staccano gli intonaci gli insegnanti italiani sono le meno pagate in Europa ci sono classi follaio se ci sono di disabili è un disastro perché non ci sono numero sufficiente di insegnanti a seguire queste persone che sono indietro non possono essere tenute indietro è la cosa che fa il governo da soldi nostri delle nostre tasse alle scuole private vi rendete conto che fanno questo? e noi dovevamo fare inciuci con questa gente se noi avessimo fatto inciuci con questa gente noi oggi a Nuoro così tanti non saremmo non ci saremmo stati io non vi chiedo il voto io sono di Roma io potrei starmi tranquillo a Roma stasera un bel ristorantino potrei passare al gruppo misto mi tengo a 14 di l'ora al mese lo potrei fare domani ma non avrei il coraggio di guardarmi in faccia perché questo affetto vale più di qualsiasi denaro del mondo perché non sono i soldi io lo dico sempre uno è la cassa da morto con la cassa forte incorporata non l'hanno inventata i soldi servono per vivere dignitosamente e devono vivere dignitosamente tutti poi il ricco che ha fatto soldi lecitamente bravo ti faccio un applauso dimmi come hai fatto ma è intollerabile che ci siano dei pensionati a 480 euro costretti a rovistare nel secchio della spazzatura quando la soglia di povertà 780 il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle è questo dare dignità dare un reddito anche ai giovani che sono costretti ad espatriare andare a cercare lavoro in India in Cina nei call center succederà questo è questo il paese che vogliamo e allora diamoci una possibilità a noi stessi io vi dico l'ultima cosa perché spesso noi diciamo e a noi stessi Grazie a tutti